Il 30 novembre 2022 sarà una data che la famiglia Mancini, residente in viaghetto a Granarola di Gradara, difficilmente dimenticherà. Erano le 8.30 di questa mattina quando un branco di otto lupi ha invaso minacciosamente l'azienda agricola di Danilo Mancini, la cui moglie, Svetlana Filippova, uscendo dalla sua abitazione per aprire le gabbie dei suoi animali, si è improvvisamente ritrovata a 5 metri dagli affamati e pericolosi mammiferi. Sono uscita fuori di casa, l'ho aperto il recinto di animali e dopo 8-10 minuti l'ho sentito un gran chiasso che tutti gli animali correvano verso di me, verso il recinto, perché dietro di loro c'erano 8 lupi. E niente, l'ho cominciato a urlare e i lupi sono andati via. Tanto spaventata la signora Svetlana ma anche tanto coraggiosa, visto che per allontanare il branco di lupi ha usato prontamente un badile che si trovava a pochi centimetri dalle gabbie degli animali della sua azienda. C'era vicino un badile che ho preso nelle mani, però sì, ha cominciato a urlare, ha sentito il mio marito che era appena tornato, che ha accompagnato la mia figlia a scuola, è tornato e l'ho sentito le mie urla, è uscito fuori di casa e poi ha visto anche lui, i lupi che già uscivano scavalcandoci la recensione della nostra casa e andandoci via per sempre ancora nella nostra azienda, però già fuori dal recinto. La donna, nonostante la vicinanza dal branco, non è rimasta ferita, ma una volta sventato il pericolo è stata immediata la chiamata ai sanitari del 118 che sono immediatamente intervenuti, trasportandola al pronto soccorso. Gli accertamenti del caso non hanno evidenziato alcun trauma, ma per la donna e per la sua famiglia nulla sarà più come prima. Però adesso c'è la paura prossimamente per i figli e per me. La paura rimane, adesso non possiamo più vivere tranquilli. Adesso non possiamo stare più tranquilli neanche dentro casa. Cioè i figli che ce l'hanno 13 e 15 anni adesso devono stare rinchiusi dentro casa. Un pericolo che la donna aveva già fiutato i giorni scorsi, quando tra le campagne di Granarola aveva intravvisto a girarsi diversi lupi. Mai avrebbe però pensato che oltrepassassero la recensione di casa sua ed ora quello che chiede lei ed altri residenti è che vengano presi i provvedimenti. Bisogna che adesso ci provvedano di fare qualcosa che noi dobbiamo vivere tranquilli a casa nostra. Dobbiamo stare tranquilli, non solo per noi ma anche per i vicini. Le voci girano che sono stati già uccisi. Non sono le ocche, anche i cani e i gatti sono stati uccisi dai lupi che hanno visto anche i vicini di casa. Che i suoi animali sono stati portati via questa mattina? Sì, sicuramente perché dopo io sono qui all'ospedale però già ho parlato con il mio marito e lui ha detto sì, sono stati portati via perché le piume c'erano dappertutto.